Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parliamo della rappresentazione di data e ora in Java. Nel corso del tempo in Java si sono succedute diverse API per rappresentare date e ore. Da quelle più semplici, che semplicemente permettono di rappresentare un timestamp, a quelle più sofisticate introdotte nel package JavaTime in Java 8. Il modo più semplice di andare a rappresentare il tempo è utilizzando il metodo CurrentTimeMillis nella classe System che restituisce una misura in millisecondi del tempo trascorso dal 1 gennaio 1970, UTC, ovvero coordinate universali meridiano di Greenwich. Esiste un altro metodo che si chiama non-time che restituisce un valore interno del clock ad alta risoluzione della Java Virtual Machine, questo espresso in nanosecondi. Tuttavia, per quanto riguarda non-time, non c'è un riferimento assoluto, quindi non può essere convertito in una data o in un tempo assoluto effettivo, come invece è possibile fare con CurrentTimeMillis. In effetti, esiste una classe che si chiama JavaUtil.Date che incapsula un valore long che deriva sostanzialmente dal timestamp che viene restituito da CurrentTimeMillis. Per cui, quando io vado a creare una nuova data, questa nuova data, non specificando nulla, viene prelevata da quello che è il tempo attuale di sistema. Questa classe non è pensata per l'internazionalizzazione, quindi non consente di andare a gestire i passaggi da una timezone all'altra e ci sono diversi metodi che la rendono sostanzialmente poco compatibile quando passo da un fuso orario all'altro, non permette di fare conversioni, per cui molti dei suoi metodi sono sostanzialmente deprecati. Il costruttore, ad esempio, prevede di andare a specificare un anno che è l'anno non assoluto, ma gli anni successivi al 1900. Per cui, se devo andare a specificare il 2015, devo mettere 115. Il mese è specificato a partire da zero e invece il giorno è effettivamente messo nel modo standard. Quindi capite che questo costruttore è veramente poco utile, molto difficile da leggere, per cui è stato deprecato. Deprecato significa che attualmente è ancora presente, ma tendenzialmente viene segnalato un warning quando noi utilizziamo questo costruttore. La conversione in stringa di un giorno invece segue questo formato, quindi il giorno della settimana, il mese, il giorno come numero, l'ora con ore, minuti e secondi separati di due punti e quello che è il fuso orario. Quindi molto difficile da gestire, deprecato, per cui successivamente è stata introdotta una classe che si chiama Calendar che ha un'unica classe, che è astratta, ed è un'unica classe concreta che si chiama Gregorian Calendar che permette di andare a rappresentare le date in termini di campi, ore, mese, anno, mese, giorno del mese, ora, eccetera, eccetera, che poi possono essere manipolati tramite un get o un set in cui vado a specificare il field e vado a mettere un valore o posso utilizzare un add per un certo field e per una certa variazione. Anche questo complicato da utilizzare, per cui a partire dal Java 8, all'interno del package Java.time, sono state definite una serie di classi che hanno un design univoco e hanno come principio guida la semplicità e la consistenza, soprattutto nelle operazioni di modifica del tempo e di conversione tra le diverse classi. Tutte queste classi sono immutabili. Ci sono due grosse famiglie di classi, quelle che rappresentano dei punti temporali o degli istanti e quelli che rappresentano degli intervalli. I punti temporali sono rappresentati delle classi instant, local date, local date time, local time e zoned date time, in cui c'è anche una time zone. Gli intervalli sono invece rappresentati da due classi che sono duration e period, uno è basato su intervalli temporali, l'altro è basato su intervalli di data. Complessivamente, le classi principali derivano da una classe che si chiama temporal e una classe che si chiama temporal amount, che rappresentano per l'appunto un istante temporale e un intervallo. con le due classi period e duration per temporal amount e le classi instant, local date time, local time e local date local time che derivano da temporal. Inoltre abbiamo due classi temporal field e temporal unit per andare a specificare i campi e le unità di tempo che poi possono essere utilizzate per andare a modificare questi istanti temporali o i periodi. Esiste un modo univoco per tutti gli intervalli temporali per andare a creare delle nuove istanze, per cui io posso andare a creare, utilizzare il metodo of, a cui passo i parametri che mi permettono di andare a creare un'istanza, ad esempio, di un istante o di una data. From mi permette di fare una conversione da un tipo all'altro. parse è in grado di leggere una stringa che ha una rappresentazione standard e costruire un oggetto. E poi c'è now che dà sostanzialmente l'istante presente. Now c'è una variante senza parametri, una variante che ha uno zone ID che mi dà la fascia temporale, la time zone che voglio utilizzare per andare a creare un istante attuale. Posso fare dei confronti, per cui ho i vari metodi is before, is after, is equal e compare to che permettono di confrontare diversi elementi temporali che siano ovviamente compatibili. Posso anche andare a cambiare il contenuto. Ovviamente ho detto che sono tutti oggetti immutable e quindi in realtà non cambio l'oggetto ma ne creo uno che è derivato da quello di partenza andando a sottrarre, sommare oppure facendo una modifica con quello che è un temporal adjuster. Per fare somme e sottrazioni posso andare a specificare una quantità da sommare o sottrarre più una temporal unit che può essere ovviamente giorni, mesi, secondi, minuti, eccetera. Oppure posso andare a specificare un temporal amount quindi un intervallo da andare a sommare o sottrarre all'oggetto temporal point a cui faccio riferimento. Inoltre posso andare a specificare dei temporal adjuster che mi permettono di andare a specificare una variazione rispetto a un punto nel tempo. Ad esempio posso andare a prendere first day of month se ho una data prendo il primo giorno del mese di quella data first day of next month first in month last day of month eccetera. Quindi all'interno della classe temporal adjuster ho questi metodi che mi permettono di andare a aggiustare un punto temporale qui sono sulle date ma ovviamente lo posso anche fare sul tempo a partire da un punto dato. Inoltre ho degli enum che mi permettono di andare a rappresentare i giorni della settimana e i mesi e questi li posso convertire con il metodo getDistimpleIname che mi permette di andare a di andare a convertire il giorno della settimana o il mese secondo un certo stile full, narrow e short che quindi danno il nome completo il nome abbreviato oppure il nome su tre caratteri e un locale. Un locale è un oggetto che mi permette di andare a specificare la zona geografica in cui mi trovo e quindi posso utilizzare una specifica della caratteristica locale per andare a convertire in maniera appropriata giorni i formati delle date i nomi dei mesi anche i separatori decimali. In Java ci sono una serie di locale oggetti locale predeterminati ad esempio locale.us o locale.italian hanno tutte le caratteristiche in termini di formati di date orari giorni nomi dei mesi e separatori decimali di migliaia predefiniti. Inoltre locale ha un costruttore a cui posso passare un linguaggio con codici su due o tre caratteri e il paese la nazione a cui voglio fare riferimento di nuovo codici su due o tre cifre e un'eventuale variante se ci sono più varianti per quella lingua e per quel paese per andare a costruire un oggetto locale che poi posso utilizzare per andare a formattare tutto quello che mi serve quindi giorni mesi formato delle date separatori decimali eccetera esiste un formato predefinito per andare a stampare dalla tre ora che è il formato ISO 8601 questo formato è indipendente dal locale e sostanzialmente mi riporta anno mese giorno separati da un trattino la lettera maiuscola T poi ore minuti e secondi separati da due punti e poi infine quello che è la time zone oppure semplicemente z per andare a dire che è il riferimento UTC quindi il meridiano di Greenwich per andare a creare invece degli oggetti di tipo intervallo ho anche qui un oggetto of a cui posso passare un temporal unit of con una variante ad esempio days hours eccetera a cui passo semplicemente il numero quindi è una versione un po' più chiara di questa ma è una variante e poi between che prende due punti temporali e mi fa sostanzialmente la differenza per cui ad esempio se voglio andare a misurare il tempo trascorso nell'andare a fare una particolare operazione posso prendere un istante che è instant.now start faccio una qualche operazione magari che richiede molto tempo faccio instant.now alla fine e vado a creare un oggetto duration che è il tempo trascorso between start ed end e posso andare poi a stampare il tempo trascorso ad esempio pt sta per un intervallo di tempo 2.005 secondi quindi qui all'interno c'è un metodo che è in grado di stampare il valore dell'intervallo temporale nella maniera corretta riepilogando le vecchie la vecchia classe date non è in grado di gestire le time zone in maniera corretta per cui è stata abbandonata e sono state definite una serie di nuove classi che hanno un design consistente sono fatte da oggetti di tipo immutabili e tutti offrono delle operazioni uguali per tutte le classi che permettono di andare a creare nuovi elementi confrontarli e eventualmente modificarli o fare la differenza se vogliamo andare a calcolare quello che è un intervallo temporale a calcolare a calcolare di loro a calcolare